Presidente Lolli, questa mattina è stato firmato questo protocollo tra la regione e i presidenti delle quattro province, anche per quanto concerne il personale degli enti locali. Cosa cambia in concreto? Beh, intanto diamo attuazione a una norma di due anni fa, di un anno e mezzo fa, che in un modo un po' così, un pochino improvvido secondo me, ha deciso da un giorno all'altro che il 50% di dipendenti delle province dovessero essere considerati esuberi e che il territorio se ne dovesse fare carico. Per noi erano 712 persone in Abruzzo, è stata una cosa drammatica perché fin dall'inizio noi abbiamo deciso di fare di tutto perché nessuno di questi finisse per la strada e nessuno di questi finisse deportato in altri territori italiani. Con l'accordo che abbiamo fatto ieri, dopo un anno e mezzo di lavoro, abbiamo intanto registrato questo risultato, importantissimo. Quello che mi interessa dire a tutti i cittadini è che al di là della sorte dei dipendenti ci sono i servizi che questi dipendenti davano e che sono servizi importantissimi. Prendete le biblioteche, prendete i geni civili, prendete l'assistenza e il trasporto dei bambini con disabilità. Questi servizi non scompaiono, questi servizi adesso vengono riorganizzati dalla regione e vengono naturalmente riorganizzati, non è una cosa semplicissima, in una dimensione più aggregata e meglio coordinata e magari nel tempo noi ci auguriamo anche offrendo servizi ancora migliori di quelli che si offrevano prima. Ci sarà un risparmio per gli enti? No, no, che risparmio? C'è un aggravio di costi sulla regione perché la regione alla fine di questa storia si ritrova con 246 dipendenti in più.